Niente, innanzitutto voglio fare tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Vi ringrazio perché se avete il tempo di sentire quello che dico io vuol dire che mi volete bene. Dire che sono amareggiato è poco, dire che sono triste è poco. Ci rimango male perché secondo me abbiamo dei deficit ma non meritiamo di perdere queste partite in questo modo o meglio su 5 ne puoi perdere due, tre, ma due almeno pareggiano. C'è un malo scuro indubbiamente, abbiamo qualche problema da risolvere che è ben più importante di una partita di pallone nel modo più assoluto. e chiudete un po' e tanti auguri a tutti.